Signor Bourbon, quanto lavoro comporta la realizzazione di questo nuovo mandala? Comporta parecchio lavoro, soprattutto un coordinamento notevole perché a realizzarlo sono più o meno 5, 6, 700, non lo sappiamo ancora, ragazzi delle città di Vercelli che hanno età comprese tra i 4 e i 20 anni. Abbiamo quindi ragazzi delle scuole materne, delle scuole elementari medie, il disegno è opera di una ragazza di terza media della scuola Pertini di Vercelli, Matilde Chiodi, che seguita dal proprio professore Andrea Varalda ha sviluppato questo magnifico disegno. Un disegno che quest'anno rappresenta un inno al chicco, al chicco di riso, ha qua rappresentati 48 chicchi di riso bianco e nero ed è tinto in gran parte con pigmenti rossi e verdi. Questo per ricordare un po' i colori del Natale, rosso e verde, quelli dell'albero di Natale e anche quelli della bandiera italiana. Infatti il prodotto, la rottura di riso che realizza questo mandala di 315 metri quadri, rottura di riso che pesa 3000 chili, è il prodotto delle riserie del nostro territorio, quindi del riso vercellese. Si potrà visitare? Si potrà visitare, soprattutto si potrà parteciparne alla realizzazione dal 13, 14, 15, quindi il 13 mercoledì, 14 giovedì, 15 venerdì mattina e pomeriggio, dalle 8 alle 6 pomeriggio, in Borsa Merci, ho detto anche Borsa Risi, in Piazza Zumaglini. Il 16 sabato e il 17 domenica, nel primo pomeriggio, verrà il sabato benedetto da Don Augusto Scavarda e da Reverendo Sciori Tarabini, buddista, e domenica alle 3 dissolto. Quindi l'invito è rivolto a tutti i giovani che l'hanno realizzato e anche ai curiosi e a chi non ha potuto parteciparvi a venire domenica a dissolverlo nella festa corale come ogni anno. Una sfida perché creare una festa a livello cittadino non è evidente, non è facile, perché comporta un impegno di tante menti, una partecipazione corale di scuole, una volontà a livello anche politico, una capacità quindi da parte di enti e di associazioni di partecipare, di dare il proprio contributo e di realizzarla. Sfida che si sta confermando essere un momento fisso che con cadenza annuale si ripresenta alla città con un nuovo mandala. Siamo il terzo mandala, quest'anno mandala di riso è diventato con un nuovo accento mandala di riso, proprio a confermare anche col comune e col territorio questa unione per il 2018, quando riso sarà un evento a settembre importante che consacrerà Bercelli come capitale del riso, il mandala del riso sarà la sua quarta edizione come mandala di riso a rappresentare il territorio, la volontà ludica e la capacità di lavorare tutti assieme attorno a questo progetto che è una festa cittadina. Grazie Grazie Grazie